Sul lungomare si sta proseguendo il lavoro di riqualificazione, dovrebbe arrivare all'incrocio con via Cordovena, ci sono però anche delle pendenze economiche da rispettare. Sicuramente sì, anche questa è una questione proprio stupida, insolita, diciamo chi lavora non viene remunerato, io vedo che l'impresa è tutti i giorni dietro la porta del sindaco a cercare i soldi che le aspettano per questi lavori. Mi auguro che come è annunciato entro fine di marzo questi lavori vengano finite, ma dal passo che hanno penso che si protrarranno oltre. Spero solo che le somme che sono state incassate dal comune per l'alienazione della casa albergo per anziani non siano strade distratte come di solito capita, quindi mi auguro che chi lavora venga pagato e quindi anche in questo caso, così come nel caso della strada che si approssima al depuratore nella parte terminale, vengono corrisposte all'impresa le giuste aspettanze. Qui però l'impresa deve ripristinare necessariamente tutti i lavori che non sono stati fatti a mio avviso in maniera corretta. A proposito di aspettanze arretrate, è sempre attuale la questione dei precari con mensilità arretrate, qual è il suo pensiero? Il mio pensiero è il solito, se si lavora per il comune di Capodorlando è il comune di Capodorlando che mi deve pagare, quindi non è che il sindaco possa dire o debba dire agli articolisti o ai precari in genere andate a bussare a Palermo. C'è poco da dire, sulla gazzetta ufficiale di venerdì scorso è stato pubblicato il decreto di assegnazione delle somme, se e quando queste arriveranno dovranno servire a pagare i sei mesi arretrati. Io immagino che non ci riusciranno neanche questa volta a pagare questi sei mesi arretrati, chissà. Noi abbiamo invitato il sindaco a venire in aula con la situazione economico-finanziaria dell'ente. Io lo invito un'altra volta, sindaco venga in aula, la responsabilità è da condividere e ciascuno si assuma la sua. A proposito di spettanze arretrate, c'era il discorso della turnazione dei vigili urbani, altre spettanze arretrate da circa 3-4 anni fa, sospese le turnazioni, una vicenda che ha anche inevitabili ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. Ma guarda, non è corretto il fatto che sia stata sospesa la turnazione, perché il sindaco ha disposto una turnazione impropria, cioè mattina-pomeriggio, senza tenere conto dei festivi, senza tenere conto che i vigili sono una categoria che purtroppo o per loro fortuna hanno necessità di una turnazione diversa dagli impiegati di concetto, dagli impiegati che stanno dietro la scrivania, perché devono ovviamente procedere alla vigilanza del territorio, o debbono controllare il traffico, hanno una serie di mansioni che peraltro esplatano male e a fatica perché hanno una sola autovettura e questo è molto, molto vergognoso. Ho sentito dire che l'amministrazione vorrebbe comprare una usata, magari, se so, aspetta il 3x2, non so che cosa farà, vedano loro, perché mi pare che abbiano poco idee e troppo confuse. Adesso basta, il periodo di prova è finito, Capo Torlando bisogna essere amministrata e quindi il passo del gambero non giova a nessuno. Bisogna guardare avanti, ma bisogna andare avanti.